Il tuo nome è Gagio e il tuo nome è Sinto. Il tuo nome è Sinto e Popo, il nome è Gagio della politica Lepi di Franco. E dove sei nato, Popo? Sono nato a Mezzana Bigli, provincia Pavia. E quanti anni hai? Sono del 1941. E dove vivi, Popo? Dove vivi? Vivo qua a Mezzana di Prato, Viale Marconi. Ascolta, Popo, hai frequentato scuole tu? Sì. Dove le frequentate fino a che classe hai frequentato? No, come classe non sono un gran che perché purtroppo l'età non ci ha potuto permettere di arrivare a questi studi. E quando eri piccolino sei riuscito ad andare a frequentare qualche scuola? Sì, qualche scuola. Ma dove? Dove eri? Ma c'era, c'eravamo, eravamo diciamo che dopo guerra perché sono diciamo di una classe un po' abbastanza vecchia. E allora praticamente non abbiamo mai avuto l'onore di essere magari, avere uno studio, avere una scuola, avere qualche cosa. Però hai imparato a leggere e scrivere, questo sei riuscito. Qualche cosa, non diciamo un gran che. Non tanto. Però grazie a Dio si va avanti uguale. E i miei nipoti sono andati a scuola qua a Prato. Ed è stata una bella esperienza. Un' bellissima esperienza. Non hanno avuto problemi con i compagni gaggi. No, non hanno avuto nessun problema, grazie a Dio. Che importanza ha la scuola per i sinti? L'importanza a scuola è una cosa meravigliosa. Perché? Era meravigliosa perché hai dei studi che ti puoi presentare davanti alla gente. È una cosa meravigliosa. Ma veramente meravigliosa che questi ragazzi vanno a scuola. Veramente. Perché possono imparare delle cose. Possono stare con, diciamo, con i gaggi. Parola sempre, come dico sempre. Che hanno uno studio. Quello studio dove possono arrivare. Perché lo studio è troppo importante. È una cosa meravigliosa. La cosa più bella del mondo è lo studio. Perché con lo studio puoi arrivare in tutte le cose. Poi anche te puoi discutere con un'altra persona. Gli spieghi cos'è lo studio. Gli dici questo, cosa. È una cosa meravigliosa lo studio.